È ufficiale la riapertura del reparto SPDC, servizi di prevenzione, diagnosi e cura dell'ospedale Santissima Trinità di Sora. Appuntamento giovedì 18 aprile. Lunedì prossimo, 8 aprile, il Dipartimento Salute Mentale della ASL di Frosinone provvederà ad inviare le lettere al personale medico ed infermieristico per la ripresa del servizio nel reparto che è stato completamente ristrutturato e messo a norma di legge. Vi voglio ricordare che esso è stato chiuso per poter essere ristrutturato all'inizio del luglio dell'anno scorso e nel corso di questi mesi ho seguito costantemente di persone il procedere dei lavori. Poi nei giorni a seguire sarà concordata con l'assessore della Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, una visita all'ospedale di Sora e per l'occasione si inaugureranno i nuovi locali. Inoltre l'assessore si è anche reso disponibile a visitare l'intero ospedale per avere contezza delle criticità che lo riguardano. Nei programmi della ASL c'è inoltre la possibilità di aggiungere all'interno del nuovo reparto SPDC di Sora due posti letto per pazienti affetti da disturbi alimentari. Se tale evenienza si dovesse realizzare il Santissima Trinità di Sora potrebbe diventare la prima e per ora unica struttura del genere in tutta la Regione Lazio. Voglio in questa occasione ringraziare l'assessore Alessio D'Amato, la dirigenza ASD, gli operatori sanitari e tutti coloro che si sono adoperati affinché tale importante servizio per l'utenza provinciale riprendesse a funzionare.